I grandi momenti derivano da grandi opportunità e questo è quello che avrete stasera ragazzi. Questo è quello che avete meritato, una partita. Se ne giocassimo dieci loro ne vincerebbero nove, ma non questa partita, non stasera. Siete nati per diventare dei giocatori, ognuno di voi. Era destino che vi ritrovaste qui, stasera. È il vostro momento. Il loro momento è passato. È finito. Sempre la stessa domanda. Perché sempre io? Il loro momento è passato. Il loro momento è passato. Il loro momento è passato. Siete nati per diventare dei giocatori, ognuno di voi. Siete nati per diventare dei giocatori, ognuno di voi. Siete nati per diventare dei giocatori.